ma buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti oggi sono quasi puntuale non ve l'aspettavate scommetto che dire bene siamo di nuovo qua come al solito a discutere in live in diretta tutti quanti insieme su quello che succede su bitcoin andiamo a dare un'occhiatina i grafici andiamo a vedere le notizie principali andiamo a vedere quello che succede nel mondo cripto ed intorni io spero di vedervi belli carichi oggi perché bitcoin lo è io vedo i 50k in arrivo il sentore è un po quello li stiamo sfiorando ormai non ci sono più limiti non ci sono più ritracciamenti abbiamo riposato a dovere e adesso dobbiamo un po' vedere questo nuovo movimento rialzista innescato dove ci porterà e quindi siamo tutti qua per scoprirlo nel frattempo come se non bastasse anche le altcoin ci fanno divertire perché ultimamente pure quelle stanno spingendo in una maniera incredibile in particolare quelle del settore dei fai ma non solo perché in questo periodo davvero trovare un altcoin che performa male è non lo so è difficile non so se ci siete riusciti voi io non ci riesco quindi avremo un po di grafici da guardare avremo un po da vedere la situazione complessiva del mercato magari buttiamo un occhio sulla dominance magari anche capitalizzazione totale insomma cerchiamo di capire un po dove ci troviamo e quali opportunità il mercato ci offre in questo periodo io parto diretto in quarta con un paio di notizie così per fomentarvi un po e poi a leggere le vostre domande quindi mi raccomando siate belli carichi fate tante domande perché il bello di queste live sono proprio le vostre domande poi non ho più detto che qua si accumulano ancora shitcoin è ricominciata la stagione quindi le state già accumulando alla grande vi voglio anche lì famelici di shitcoin quelle quelle vere non le shitcoin che si comprano su binance le shitcoin con la s maiuscola e quindi prima di iniziare ripeto qualche notizia interessante come il nostro caro amato francis suarez il sindaco di miami il bitcoin bull per eccellenza che di nuovo fa parlare di sé fa parlare della sua città non so se lo sta facendo come grossa operazione di marketing o per quale motivo fatto sta che sicuramente si parla di lui nella community delle cripto ma anche sta aiutando lui a sua volta a far parlare delle cripto perché vi ricordate lui vuole rendere miami un hub innovativo proprio nel settore cripto e lo vuole fare in maniera estremamente concreta ovvero oggi stamattina più o meno ha mandato un esposto ha mandato una richiesta ufficiale al suo governo al governo federale per permettere tre cose che farebbero fare un grosso passo avanti alla città di miami come appunto pioniere nel mondo di bitcoin nell'utilizzo di bitcoin prima cosa permettere ai dipendenti e le varie persone che lavorano nella città di miami di ricevere anche parte non tutto per forza dello stipendio in bitcoin seconda cosa di permettere ai cittadini di pagare le tasse nonché le spese pubbliche utilizzando bitcoin che poi di fatto si innesta secondo me un circolo interessante qualora dovessero ricevere parte dello stipendio in bitcoin magari li detengono li tengono lì e poi si abituano anche a utilizzarli perché no per fare appunto le spese che la città gli impone e infine altra cosa molto molto interessante la volontà di investire una parte delle treasuries della città ovvero una parte delle riserve finanziarie liquide cash in bitcoin caspita questo se dovesse accadere voi immaginatevi già cosa sta accadendo con le aziende una cosa pazzesca questa perché di fatto le aziende che acquistano bitcoin che investono in bitcoin sono un trend che io penso sarà dominante per la crescita di bitcoin nel 2021 sarà uno dei temi secondo me i quali si appoggerà di più se a questo si aggiungono le città adesso miami sarebbe veramente la prima in assoluto è una cosa più difficile perché le municipalità stanno comunque alle leggi governative e vaglielo a dire al governo senti voglio investire un po di liquidità in bitcoin ecco un conto è un'azienda che comunque è privata si devi convincere magari qualche investitore il consiglio di amministrazione ma una città ecco diciamo che è uno step ancora più complicato però se ci riuscisse e se diventasse anche questo un trend non lo so mind blown completamente sarebbe una figata pazzesca poi visto che adesso sto facendo troppo il bull vi porto anche una notizia un po meno bella ovvero che l'india vuole bandire completamente gli investimenti in cripto ha detto che lo farà e lascerà un po di mesi un po di tempo agli investitori che già lo hanno fatto per vendere e liberarsene perché appunto altrimenti sono stanno violando di fatto la legge vabbè c'è sempre qualche paese non lo so io ve li ho presentati proprio come due antipodi da un lato abbiamo l'innovazione abbiamo chi vuole fare passi avanti e chi vuole comunque anche emergere da quel punto di vista lì come pioniere come innovatore come qualcuno che osa fare qualcosa che gli altri non hanno il coraggio di fare e dall'altra parte ahimè ci sono ancora degli stati un po più retrogradi che pensano anziché innovare a bandire sono due antipodi che continueranno a esistere secondo me nel mondo intorno a qualsiasi tema purtroppo e infine paypal che si vuole buttare a pesce nel mondo delle cbdc ovvero le criptovalute di stato insomma l'euro digitale il dollaro digitale eccetera eccetera quale ufficiali però e vuole diventare il wallet globale ha detto del mondo delle cbdc di fatto quando ci saranno queste criptovalute di stato vi ricordo che le ultime le ultime parole della bce dicevano che l'euro digitale dovrebbe arrivare hanno parlato 4 5 anni di tempistiche saremo probabilmente gli ultimi però al di là di tutto per queste valute queste cbdc di fatto avranno bisogno di applicazioni per gestirle magari anche multi currency io mi aspetto che ci dovrebbe essere quanto meno facilità di cambiare una nell'altra e comunque di inviarle e quindi paypal vuole proprio porsi in questo esatto segmento come come smistatore gestore centrale centrale no perché di fatto non c'entra niente come erogazione ma come punto di congiunzione del mondo delle cbdc vediamo come si svilupperanno le cose quest'anno di carne al fuoco ce n'è veramente tanta bene amici io adesso che vi ho fatto un po di intro così andiamo a leggere le vostre domande così dedico più tempo possibile a queste allora ciao luca ci spiegheresti il funzionamento dei token mirrored avevo preso dei m amd da mettere nella pool di pancake dopo qualche settimana ho visto che si sono discostati di quasi 10 per cento verso l'alto rispetto all'azione originale ha senso venderli per aspettare che i due prezzi convergano guarda mi trovi abbastanza impreparato perché io ti giuro li ho visti quando ho smanettato un po con pancake quando gioco con pancake di fatto ho notato queste queste stocks effettivamente m stocks sono e scopro adesso che m sta per mirrored ma ti dico la verità non ho mai approfondito perché come li ho visti ho detto cos'è sta scammata qua i pool erano tutti poco liquidi ho detto vabbè lasciamo stare perché di sicuro non ne vale la pena io credo quindi che dipenda da esattamente da questo fattore il fatto che il c'è molta divergenza di prezzo ovvero che c'è poca liquidità ci sarà immagino pochi volumi di scambio e questo in momenti di particolare euforia presumo possa tranquillamente portare ad un prezzo che diverge dal suo indice dal suo sottostante e anche il contrario perché no immaginatevi non lo so come se una stable coin come usdt o dai o simili avesse pochissima liquidità pochissima capitalizzazione pochissimi volumi sarebbe passerebbe da 1 e 10 a 0 e 90 ogni giorno perché di fatto avrebbe appunto degli order book sottili e quindi una una notevole divergenza da parte del prezzo non saprei se consigliarti di venderli aspettare che i due prezzi convergano perché non lo so non non davvero non mi intendo molto di questa cosa prima live grande benvenuto benvenuto mi fa piacere che ci siano sempre nuove persone che si buttano in queste live quanto durerà ancora la pacchia e bella domanda è bella domanda guarda io ti dico la verità su bitcoin al momento il trend ripeto è rialzista è tornato rialzista subito dopo un bel ritracciamento quindi io lo vedo molto molto bene bitcoin in questo periodo sulle altcoin che dire godiamocele finché durano con le dovute precauzioni perché le altcoin sanno fare molto male quando è ora bisogna fare molta attenzione a questo ovvero non illudersi mai che un bull market delle alt che le alt season durino per sempre ma bisogna sempre essere consapevoli che prima o poi termina quindi di operare sulle altcoin in maniera speculativa se si è interessati a fare quello se invece si vuole investire sulle altcoin non bisogna neanche pensare ai bull market e i bear market bisogna pensare al portafoglio da allocare alle altcoin ecco queste fasi particolarmente bullish sono golose sono interessanti per chi ovviamente sta dietro alla speculazione perché ci sono veramente delle opportunità fantastiche ciao luca sei fiducioso per la crypto conference nonostante il perdurare di questa situazione guarda io ci spero veramente tanto perché mi piacerebbe proprio riuscire a rivederci ti dico siamo in febbraio adesso vediamo un po forse è presto per dirlo però inizio ad avere un pelino di timore non lo so io spero che si riuscirà a fare il prima possibile perché tra l'altro quest'anno deve essere una figata pazzesca siamo in tantissimi ci sono ospiti veramente con dei nomi importanti negli ospiti non lo so non so veramente che dire bella luca gasati ai massimi grandi grandi ciao ma grt come lo vedi allora andiamo a dare un'occhiata al grafico dal punto di vista dei fondamentali non te lo saprei dire perché non l'ho tanto seguito la miseria dal punto di vista grafico direi che sta spingendo veramente un sacco mamma mia che roba e che dire nuovi massimi price discovery non c'è molto da dire qua in verità abbiamo un nuovo livello di supporto che è qui con tanto di domanda di pool di domanda sopra tac e vediamo sull'intraday perché di fatto ma neanche nemmeno sulle quattro ore è tutto verde ma che cos'è successo ma voi ne sapete qualcosa voi io non lo so e guarda il primo proprio livello di supporto è sull'orario sul time frame orario c'è questo piccolo pool di liquidità in domanda nella zona 4500 sat ed intorni quindi lì volendo si può andare a puntare per una posizione speculativa di questo tipo tac tac con eventualmente uno stop loss qui altrimenti qua c'è quello che abbiamo visto prima ok il il vecchio top quei due lì sono i livelli un po più interessanti mamma mia che botta mi stupisce non c'ero ancora non l'avevo ancora guardato il grafico di grt in questo periodo e non sapevo avesse fatto una botta del genere tra l'altro io avevo ipotizzato un possibile entry qua dentro dopo il breakout ma non l'ho mai fatto come è di rigore quando c'è fomo e quindi niente al momento molto 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 forte grt come trend benissimo allora dove siamo finiti eccoci qua gasatissimi ciao luca puoi dirmi delle tecniche di trading di cripto e mamma mia amico mio stiamo qua fino a domani guarda io ti posso dire ho fatto un bel po di video a riguardo se ti va di darci un'occhiatina da dove si potrebbe iniziare bene avevo fatto uno in particolare che vale per i range che era molto dedicato esclusivamente all'operatività nei range che secondo me non è stato tanto visto lo scillerò un po di più nei prossimi giorni magari anche su telegram poi avevo fatto una serie di video un corso gratuito che lo trovate su youtube che è trading consapevole che di fatto contiene non tanto l'operatività diretta intesa come i livelli su cui entrare uscire sul grafico ma più da lontano nel senso come gestire il capitale come impostare una strategia come avere il giusto mindset rispetto a proprio all'operatività del trading quindi ecco quelle secondo me sono le basi per partire col trading per quanto riguarda la strategia non lo so io a me sembra che ne parliamo un po tutte le volte nel senso io vi faccio vedere quelle che sono quelli che sono i setup che seguo quella che è la mia operatività adesso sto iniziando a giochi chiara ancora con l'intraday tra poco riprenderemo anche questo percorso quando avrò un attimino di tempo in più però di fatto come vedete la mia operatività cauta si basa molto sull'individuazione delle aree di domanda offerta i cluster di prezzo supporti resistenze e l'approccio del mercato con i medesimi è un'operatività molto semplice ok molto cauta e di fatti il uno dei suoi difetti a che missa quindi perde un sacco di possibili posizioni però ai suoi pro nel senso di solito il rischio rendimento è favorevole il win rate abbastanza alto si potrebbe parlarne veramente tanto non lo so io ti consiglio di partire da lì trading consapevole e poi quello del trading il video sul trading in the range l'ho chiamato proprio ci sono delle operatività poi spendibili anche altrove non ci muoviamo dalla posizione long insomma e al momento mi sa che long and strong come si suol dire perché di fatto non c'è motivo per non essere long davvero adesso io adesso poi andiamo a vedere il grafico perché io avevo ipotizzato un long sull'intraday che anche lì ne l'ha sfiorato e non me l'ha preso chi ha visto la mia ultima diretta lo saprà e poi appunto andiamo a vedere meglio il grafico ma di fatto il trend è rialzista su tutti i time frame nessuno escluso quindi non c'è veramente ragione per shortare nulla dunque dunque oggi sono bullish come vedete sono mi sento molto bullish ma alla fine vincerà il bene cioè le crypto o il male cioè tutti i governi che vogliono bannarle guarda io sono di parte però credo che faranno molta fatica ostacolare l'evoluzione e l'avanzamento di una cosa come bitcoin e le crypto cioè lasciate perdere non non fate è un errore davvero governi sto parlando con voi non fate questo errore che rimanete indietro tanto le crypto vanno avanti non spariscono hanno superato alla grande la massa critica quindi non fate la stupidaggine di fare i boomer i retrogradi e dire no io le bandisco completamente perché tanto non cambia nulla cambia solo che avete un danno ulteriore perché rimanete fuori anche da questo settore da questa industria magari chi le vuole utilizzare le utilizza lo stesso senza dirvi nulla e chi vuole fare impresa chi vuole fare cose inerenti questo mondo deve andare in un altro stato ce n'è solo da perdere a ostacolarle questo è il mio parere che secondo me lo stanno capendo un po' tutti ecco io vedo che fortunatamente l'america che era una molto scettica all'inizio lo ha capito l'europa lo ha capito ormai anche lei insomma bisogna cavalcarla questa onda perché tutti hanno interesse nel farlo porta anche profitto porta ricchezza a chi riesce a porsi nella maniera giusta è un'opportunità ecco date retta zio luca come qualcuno commenta bravi bravi perché così in anticipo e vedi oggi ero ero in orario no ero un paio di minuti in ritardo forse però ho fatto una promessa che doveva essere nei buoni propositi del 2021 siamo in febbraio perché in gennaio sono arrivato sempre comunque in ritardo però meglio tardi che mai dai io la vedo io la vedo così riesci a fare video su dot vorrei saperne di più ma trovo poco guarda io in realtà ne avevo fatto uno su polkadot proprio specifico su polkadot un bel po di tempo fa tra l'altro e recentemente ne ho fatto uno dedicato ai migliori progetti a mio parere ovviamente in fase di sviluppo su polkadot ti consiglio di buttare un occhio su tutti e due ti vogliamo bene grazie vi voglio bene anch'io anche se ho il date cardano sto scherzando non voglio generare flame ciao luca ti ringrazio per tutti i video le risate tutti i consigli che ci hai dato continuo così grazie mi fa piacere volevo chiederti pensi che ci sarà un ribasso di altcoin oppure continuerà nei prossimi mesi dici che l'ideale è entrare ora grazie mille allora guarda sull'entrare ora che dire bisogna sempre contestualizzare perché bisogna capire qual è l'obiettivo che si vuole ottenere no su un trade su un altcoin se tu vuoi entrare ora devi essere trader innanzitutto e cercare un setup in cui entrare ok perché non lo so vai a vedere il grafico specifico vedi una certa configurazione dici qua ci sta proprio bene una posizione long con questi e questi livelli altrimenti se sei un investitore insomma bisogna fare un piano non orientato sul quando entrare perché bisogna shiftare un po il focus non sul prezzo a cui entrare ma sulla modalità ok bisogna creare una strategia andare a pensare a come mediare il prezzo di carico perché poi nel lungo periodo ci interessa quello quindi ad esempio c'è il pack ci sono i pack in fase ribassista i pack con accumulo di liquidità insomma ce n'è di tutti i colori e bisogna ragionare un po su quello molti di voi mi hanno chiesto qualche approfondimento no da investitore oltre al semplice pack e quindi che dire io credo che nei prossimi video un qualcosina vi condividerò perché di fatto vale la pena secondo me anche andare a scavare un po più a fondo su dei metodi di abbassamento del prezzo medio di carico che non sia il semplice pack qualcosa di un pelino più evoluto quindi state sul pezzo perché arriverà anche quello e poi che dire riguardo al discorso pensi che ci sarà un ribasso io ti dico ci sarà prima o poi perché lo sai come funziona è ciclico il mercato delle alt il quando purtroppo non te lo so dire perché magari lo sapessi se sapessi quando inizia il ribasso beh a quest'ora buonanotte sarai già belle che miliardario ciao luca volevo chiederti che tu sappia c'è un modo di versare il tfr in bitcoin e guarda al momento non credo perché il tfr non so se poi tu lo utilizzi un fondo complementare come i fondi di categoria o che che te lo investono direttamente se te lo fai dare liquido lo puoi investire tu direttamente in bitcoin ma in me poi c'è la tassazione nel momento in cui te lo liquidano se tu ce l'hai all'interno di un fondo si può chiedere la migrazione ma sempre su degli strumenti affini quindi purtroppo non in bitcoin altrimenti anche lì puoi chiedere la liquidazione tatamo 26 per cento di tasse che dire purtroppo no ahimè ho messo qualcosa sulle alta fine febbraio sono già sopra del 50 60 per cento assurdo esatto però attenzione con la fomo perché io ho paura che molti si potranno fare ancora male in queste situazioni quando ci sono i bull market è tutto bello i bull market però prima o poi finiscono come tutte le cose belle per l'appunto quindi mi raccomando non fate l'errore di pensare che questa cosa andrà avanti per anni ok mi raccomando proteggete le posizioni godetevi questo bull market perché non vuol dire che bisogna vendere tutto e scappare no anzi va goduto bisogna far correre i profitti si dice però con una lampadina accesa sempre che ci dice attenzione perché questo non durerà a lungo è troppo bello per essere vero e quindi mi raccomando una strategia di protezione di uscita qualsiasi cosa nel caso in cui io sono speculatore se sono investitore c'è una strategia una strategia ottima secondo me è il ribilanciamento del portafoglio che ti fa sì che ogni tanto tu vai a ribilanciare i vari comparti del tuo portafoglio investimenti e così vai a smorzare un po' la componente dovuta alle burran incamerando di fatto i profitti è un'ottima mossa attenzione mi raccomando non fatevi male perché a quest'estate molti si sono fatti male con le altcoin defy e in passato è successo ancora quindi mi raccomando ecco sappiatelo buonasera gasatissimi torno ai live dopo un po' di differite ben ben ritrovato allora come va luke con le infornate di pancake ma benissimo direi come fa ad andare male pancake sta regalando soddisfazioni pazzesche poi lo so che non dovrei dirlo perché non dovrei incentivare certe cose però io ho giochichiato un po' anche con kebab con ovviamente con un capitale di gambling quello per me è gambling se è in quella categoria lì però che dire non lo so è divertente ovviamente ripeto non bisogna farsi prendere la mano neanche in quelle cose lì pancake di fatto sta diventando un'istituzione non so se avete visto adesso quanta quanta liquidità c'ha dentro un miliardo e mezzo cioè devastante è cresciuta di un ordine di grandezza nel giro di un mese la liquidità pancake sta facendo un ottimo lavoro lasciatemelo dire è veramente un è diventato una roba ma stupito anche a me io all'inizio l'avevo approcciato con con diffidenza all'inizio perché avevo non lo so vedevo il modello molto speculativo sul token cake il fatto che comunque tu metti prendi cake poi metti in staking prendi altri cake e così via però che dire sta sta funzionando sta veramente funzionando e quindi ottimo ottimo shitcoin lifestyle esatto questo è un po' il mantra di questo per delle alt season solo io ho beccato qualche alt che ha lateralizzato mentre le altre volano bene allora noi sai cosa facciamo ci sentiamo così mi dici mi dai sempre dei consigli in tempo reale sulle alte io quelle lì le evito no scherzo scherzi a parte dai non non farti per non perderti d'animo verrà verranno momenti migliori ciao luca un tuo parere va bene secondo te su piattaforme come nexo conviene farsi restituire l'interesse sotto forma del loro token hanno futuro questi token o meglio andare sul sicuro guarda che dire anche qua è una una domanda che dipende la cui risposta dipende se tu hai dedicato quel comparto liquidità al voler ottenere un interesse basso ma costante basso poi per modo di dire perché adesso offrono interessi di tutto rispetto il cioè l'obiettivo ovviamente è mantenerlo nella stable coin al contrario se ti interessa esporti a un token volatile allora ha senso detenerlo nel token nexo nel token cell eccetera eccetera dipende unicamente da quello quindi tu fatti questa domanda chiediti io investirei mai in questo token vorrei investire nel token se la risposta è sì allora vai tranquillo e fatti dare l'interesse nel token se la risposta è no allora o ti fai dare l'interesse nel token e poi lo converti di volta in volta puntualmente così hai l'interesse più alto e basta e poi lo converti comunque nella coin nativa oppure basta te ne freghi e vai direttamente con la coin nativa vi voglio far vedere anche un'altra cosa ecco perché non mi stavo dimenticando volevo perché so che molti di voi hanno bet no che hanno utilizzato ether per andare a fare lo staking di ethereum 2.0 su binance e hanno bet e magari hanno visto che bet vale un po meno adesso di ether e quindi qualcuno mi ha scritto mi ha detto ma come mai ma cosa succede che cosa cioè perché vale meno non dovrebbe valere uno bet ether 0.97 perché di fatto il mercato lo prezza così è come se fosse una sorta di future su ethereum che poi ovviamente a scadenza quindi all'uscita di ethereum 2.0 varrà 1 perché tu fai il redeem dei tuoi ether c'è una possibilità di metterlo a rendita in maniera interessante per ora non so quanto durerà io ve la butto lì c'è bifi finance che è un'altra applicazione su binance smart chain che si appoggia è lo yearn finance della binance smart chain in sostanza però io non sono qui adesso per spiegarvi bifi finance quindi se lo conoscete magari capite al 100% quello che dico se non lo conoscete magari ne ho parlato vero sì o no non lo so non mi ricordo non mi ricordo se ne ho parlato o no di bifi finance nei video che ho fatto sulla 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 defy ne ho fatti talmente tanti ormai che mi perdo via in ogni caso guardate qua cosa abbiamo beth tac col 32,40 48 per cento di apy appoggiandosi a venus perché di fatto secondo me se andiamo su venus protocol fatemi ci no white paper non c'è fatemi ci dare un'occhiata volante scusate se faccio questa parentesi però secondo me può essere interessante eccolo qua beth è collateralizzabile su venus questa è una bella notizia per chi vuole fare ottenere una rendita comunque buona interessante su beth che magari uno dice che peccato mi sia svalutato e tutto bene guarda che bello puoi avere una rendita veramente golosa ecco 9,01 per cento più il mining di vai quindi si va a ottenere un interesse composto che complessivamente è buono se uno non ha voglia di farsi tutto lo sbattimento su venus può andare su bifi e andare a farlo direttamente lì 32,4 per cento sappiate che c'è il rischio poi di bifi finance e di venus protocol è come andare a utilizzare una piattaforma defi ci sono tutti i rischi della defi mi raccomando siatene consapevoli però sappiate che c'è questa opportunità quindi se siete già esperti utilizzatori di defi su binan smart chain ecco sappiate che c'è anche questa possibilità scusate spero di non avervi annoiato e fatto perdere tempo ma mi sembrava il caso di condividervi questa cosa allora 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 dove siamo finiti qua ciao è possibile che un paese proibisca di investire in cripto come fa? eh guarda purtroppo è possibile alla fine i paesi i governi a volte hanno un potere che impone che ha il potere di imporre e se vogliono imporre cose assurde sarà peggio per loro poi nel tempo mi piacerebbe vedere un'analisi di xlm grazie mille va bene va benissimo allora xlm vediamo se in questo bull market pompa anche xlm che quella è la conferma proprio della shit coin season se pompa xlm no scherzi a parte no no non è niente di bello questo grafico perché a parte tutte queste mille milla righe che ho tirato ci troviamo ancora in questa zona di bottom non è ancora stata rotta inizialmente era circa scritta qua poi ha fatto un falso breakout da manuale proprio pazzesco è ritornato a pigliarsi i minimi poi botta di domanda è ancora andato a finire qua ma è stato soppresso dall'offerta vedete in questi su questo livello e poi di nuovo ha fatto un po di ha avuto un po di crisi isteriche ha fatto su e giù su e giù è bipolare ma di fatto non è ancora riuscito a varcare la soglia dei 1300 sat che sarebbe adesso il primo effettivo breakout da questa zona di bottom ti ripeto anche se cioè ti dico anzi anche se dovesse farlo questo breakout non mi entusiasmerrebbe più di tanto perché qua c'è scusa qua c'è tutto questo cluster che va a formare una zona di congestione che insomma andrebbe rotta anche quella teoricamente prima di iniziare a pensare a un eventuale posizionamento long non lo so non mi piace c'è di molto meglio in un periodo come questo direi che si può trovare veramente veramente di meglio dunque ciao luca non trovi che usare solo l'analisi tecnica sia riduttivo almeno l'analisi on chain andrebbe considerata guarda è interessante l'analisi on chain appoggio quello che dici ti chiedo solo una cosa cioè come la utilizzeresti dal punto di vista operativo io sarei davvero in difficoltà non saprei in che modo andarla integrare ripeto dal punto di vista operativo ovvero il prezzo a cui aprire o chiudere una posizione che direzione seguire long o short ti dico come l'analisi tecnica secondo me non ce n'è e poi non è chissà quale analisi tecnica come vedi è un'analisi tecnica veramente banale io peso molto poco l'analisi tecnica sulla profittabilità di un trade di un'operatività di trading a lungo termine peso molto di più la gestione del capitale quindi la gestione dei rischi il calcolo dei rischi rendimento andare a ritarare bene i propri setup in base allo storico tutte queste cose qui ecco l'analisi on chain è utile di fatto non si può dire che sia inutile perché comunque tu vedi tanti dati il numero di transazioni ad esempio dal momento in cui il numero di transazioni della Binance Smart Chain ha toccato i massimi storici avete ben visto che BNB è decollato ma di fatto questo risponde a una domanda più di carattere fondamentale che tecnico ovvero BNB che cos'è? è l'equivalente di Ethereum oltre a tante altre cose a tutti i vantaggi che dà su Binance è l'equivalente di Ethereum sulla Binance Smart Chain ovvero è il consumabile che si utilizza per andare a pagare le transazioni e quindi maggiore è il numero di transazioni e maggiore è la domanda per BNB perché di fatto poi questo si specchia con maggiore è l'utilizzo delle piattaforme DeFi maggiore è la domanda di BNB e così via è tutto un effetto palla di neve quindi questi dati fondamentali sono utili così come magari anche i dati sull'inflow e l'outflow dagli exchange però ripeto sono dei dati che magari ci aiutano a inquadrare meglio dal punto di vista fondamentale la situazione in cui ci troviamo ma lato operativo io faccio fatica a dire se vedo l'inflow dall'exchange o viceversa allora apro una certa posizione io cerco questo ecco perché poi dal punto di vista dell'investimento non ho certo bisogno dei dati on-chain per decidere se investire oppure no dunque analisi di Loopring e Stellar bene Stellar l'abbiamo già fatta andiamo a vedere Loopring allora LRC BTC grande Loopring che tra l'altro ha avviato l'altra fase la quarta mi pare del liquidity mining io ormai non ve lo sto più dicendo perché altrimenti vi parlo solo di Loopring però di fatto sta continuando il suo liquidity mining quindi si può farmare LRC sull'exchange, sul DEX andando a dare liquidità e ci sono degli APY che fanno tanta tanta gola è un layer 2 quindi a costo 0 di fee e quindi che dire molto interessante avevamo inquadrato quest'area questo cluster di prezzo che si è poi proiettato di nuovo qui e di fatto secondo me ha reagito bene il prezzo a quest'area perché io vedo un retestino qui subito dopo il breakout e poi vedo delle candele un po' isteriche anche in questo caso guardate ste shadow qua che vanno su vanno giù di fatto mi sembra una coin poco liquida che però sta facendo bene il suo lavoro di salire cioè sta avendo un uptrend abbastanza convinto come vedete si sta muovendo con massimi e minimi crescenti adesso ci dobbiamo dirigere per andare a passare al livello successivo verso questo massimo che è il suo top locale 2470 la rottura di quel massimo lì poi fa delle belle faville perché di fatto lo porta in price discovery locale non price discovery complessiva perché in passato nel 2018 ha avuto questo exploit che non so neanche come definire però adesso ne è passato di tempo sicuramente il mercato si è riassestato vale la pena concentrarsi su quest'ultimo periodo senza guardare troppo il 2018 dove bitcoin aveva anche prezzi totalmente diversi quindi concentrandoci su questa situazione dobbiamo andare a vincere questo pool di offerta qua su tac che è costruito a partire dalla chiusura settimanale 2470 fino al top della shadow che è all'incirca 2950 giù di lì nel frattempo si può andare a seguire eventualmente per un entry speculativo per andare a accompagnare ecco loop ring verso questo target si può andare a valutare dei possibili entry ritorniamo un attimo qua allora abbiamo questo pool di domanda che possiamo chiamare anche range low per il momento qua sotto ok non so se lo vedete su time frame giornaliero di fatto abbiamo il nostro range low nonché vecchio massimo due volte in zona 1420 e quindi quello è il livello poi sotto abbiamo un po' di shadow quindi un po' di liquidità in domanda e volendo è estendibile questa area ops anche a queste a questo pool perché guardate questo è difficile trascurarlo abbiamo tre candele quattro anzi che hanno chiuso tutte concentrate qui e sopra guardate quanta liquidità in offerta al tempo che poi è diventata domanda e lo stesso vale qui quindi facciamolo un po' più grosso il pool ipotesi 1 entry super speculativo sul pool con appunto target di ripartenza ipotesi 2 entry più accumulativo meno speculativo suddiviso in tutta questa zona perché è tutta buona effettivamente e stop loss o qua o sotto i minimi questa è una posizione molto più di ampio respiro ma di fatto a rischio rendimento tutto sommato discretamente positivo ottimo torniamo salvo perché me lo seguo anch'io loopring ok tac torniamo da voi e alle vostre domande ciao Luca dove non si può utilizzare YubiKey che sistema di autenticazione 2 2 factor usi ma di solito google authenticator è il cioè alla fine YubiKey è il top dove si può utilizzare benissimo tanto meglio dove non si può va bene anche authenticator l'importante è non utilizzare l'autenticazione a due fattori sms che è veramente l'anticristo della sicurezza domanda come si prende profitto in queste situazioni di pump parabolici guarda ci sono diverse strategie tu puoi utilizzare un trailing stop puoi fare dei take profit parziali durante il percorso puoi andarti a vedere tutte le resistenze che ci sono appunto a fare dei take profit lì puoi aspettare di vedere il primo setup short anche contro trend e allora iniziare a fare take profit lì ce n'è veramente tanti di tante di metodologie di protezione di una posizione vedi tu nel senso c'è proprio l'imbarazzo della scelta ciao luca sono carichissimo su bitcoin cosa ne pensi dell'exploit su ice cream swap rimborseranno o meglio dimenticare i soldi persi binance aiuterà la piattaforma li manderà a quel paese ho letto ho letto ice cream swap per chi non lo sapesse era l'ennesima piattaforma di defy iper speculativa su binance smart chain che ha millantato un hack ma sembra molto un exit scam più che un hack motivo per cui bisogna fare non attenzione di più all'utilizzo di queste piattaforme in particolare quando si va a dare liquidità al loro token perché di fatto quello che è accaduto in questa piattaforma è stato andare a sfruttare un bug che permetteva di creare infiniti token ice cream e poi li è andati a dampare nel pool di liquidità ice cream bnb ice cream busd quelli lì quindi chi deteneva ice cream si ha visto il token valere zero chi aveva liquidità in quei pool lì si ha visto inondare di market trades e quindi disintegrare anche il pool chi paradossalmente aveva liquidità in un pool che non c'entrava nulla con cake mi viene da dire no non c'entra niente con ice cream si è salvato perché di fatto non è stato toccato dal problema quindi allora questo mi porta a dire due cose vabbè la prima di ricordarsi di usare solo play money se a tutti i costi si vuole usare queste piattaforme da degenerati e quindi di pensare che quel capitale lì è già perso ed è la nostra fettina gambling insomma seconda cosa se proprio lo si vuole usare allora per ridurre il rischio nel possibile di non esporsi troppo al loro token e non utilizzare i pool che vanno a che comprendono il token stesso uno dice vai allora cosa lo usa a fare anche nei pool stable coin hai dei rendimenti altissimi ad esempio su kebab per quanto anche quella sia abbastanza degenerata tra l'altro oggi ha ottenuto addirittura un audit kebab ho detto ma davvero è vera questa cosa e di fatto sì comunque no dicevo anche su kebab cioè chi ci vuole giocare per andare a fare appunto il gambling della situazione si può andare a dare liquidità ai pool di stable coin ti danno il 100 e passa per 100 annualizzato però almeno non tocchi il token kebab che insomma che dire si mitigano un po' i rischi vabbè chiusa parentesi io penso che non lo so se CZ interverrà io presumo che qualcosa farà anche perché ne va poi della sua reputazione se continuano a nascere questi scam sulla Binance Smart Chain io mi immagino di sì allora dove siamo finiti qua dunque ma così non crollerà il prezzo dei BTC quando non ho capito dove si collega ciao Luca hai qualche parere su Avalanche a prescindere dall'esplosione di queste settimane purtroppo non la conosco volevo studiarmela e fare un video prossimamente perché ho visto che in tanti me lo chiedete e quindi direi che sarà il momento di farlo allora l'India vieta le cripto microdump microdump figurati cosa vuoi che succeda ciao Luca domanda filosofica credi che l'hype immenso che si è generato sulle cripto in particolare BTC ne giustifichi il prezzo c'è un modo per distinguere un prezzo ragionevole da uno pompato guarda se trovi risposta a questa domanda fammelo sapere perché è rivoluzionaria io me lo chiedo spesso non so chi di voi mi segue abitualmente saprà che questa domanda me la sono fatta molto molto spesso e sono giunto alla conclusione che sostanzialmente vi rifaccio sempre questo grafico agghiacciante il prezzo di Bitcoin è dato da due componenti una è la componente valore che secondo me lasciatemi dire ultimamente ha accelerato a partire forse da metà 2020 ha accelerato la crescita di valore di Bitcoin ha accelerato con le istituzioni che ci sono entrate dentro le aziende che ci vogliono entrare dentro le crisi monetarie che hanno fatto vedere il vero valore di Bitcoin come bene rifugio l'oro che ormai è un po' passato diciamo di moda ecco tante cose che vanno ad alimentare i fondamentali di Bitcoin e poi c'è la componente speculazione che solitamente va su e va giù e in sostanza va ad aggiungersi o a sottrarsi dal valore e si determina il prezzo di fatto secondo me al momento ci troviamo ripeto in una fase in cui il valore sta crescendo più rapidamente del passato ma anche in un ciclo positivo della speculazione quindi attenzione perché la speculazione è sempre ciclica ci sono fasi rialziste e fasi ribassiste mentre il valore tendenzialmente di un bene che o un'azione un'azienda un qualsiasi asset di investimento che fa il suo dovere nel modo corretto dovrebbe tendenzialmente continuare a crescere lì anche cioè il discorso questo discorso evidenzia molto bene anche la differenza tra trader e investitore perché il trader vuole principalmente andare a prendere questi movimenti o anche questi se short mentre l'investitore vuole prendere questi il lungo periodo tendenzialmente crescente e quindi capite bene che andare da investitore sto divagando un po' però secondo me sono temi tutti utili da investitore se io vado a prendere una singola posizione può andarmi bene può andarmi male perché se la vado a prendere qui vado ad acquistare qui da investitore poi mi becco tutto il ciclo ribassista della speculazione sì il valore continua a salire però potrei perdere del profitto potenziale se al contrario certo se vado a prendere posizione qui bene meglio ancora ma vuol dire che ho un culo incredibile e quindi cosa fare per non affidarsi al culo beh semplice vai a fare tac 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 così vai a prendere un po' di posizione alla volta e di fatto cosa ottieni la curva del valore tendenzialmente in media il piano d'accumulo e tutto questo per dire cosa per dire che questi sono i due componenti del prezzo di bitcoin secondo me siamo in una fase positiva per entrambi quindi speculazione positiva valore molto positivo e che dire io mi aspetto che prima o poi arriverà anche la fase opposta perché è sempre così quindi non c'è il discorso che va sempre su purtroppo non vale però dal punto di vista da investitore non mi interessa più di tanto perché di fatto io sto vedendo un periodo storico in cui i fondamentali sono veramente più solidi che mai da trader seguirò le fluttuazioni e mi divertirò poi cosa pensi della coin sfp ha del potenziale di crescita guarda se vuoi la mia onesta opinione io ho partecipato al launchpad e quando ho visto che ha fatto 15 per tipo dopo il listing ho detto davvero ma perché cioè davvero tra quello e trust wallet io non lo so non riesco a capire io sarò limitato per quanto riguarda le altcoin e parto sempre prevenuto però io non riesco a capire dove sta il valore di questi token cos'è governance cioè a che cosa servono i token pensate pensate che con l'hardware wallet safe pal ci potevate richiedere 50 token e ve ne compravate 4 cioè ve ne ricompravate 4 di hardware wallet safe pal a saperlo ne compravo 500 e così poi solo per avere i token stessi non lo so mi sembrano dei chiari segni di fomo questi a me fanno un po' molta più paura della burran di bitcoin ciao luca secondo te ci sarà ancora con bitcoin un 12 marzo ad intendi un dump secondo te quale sarà il prezzo che arriverà a fine anno una tua opinione personale senza dare peso guarda del prezzo a fine anno non te lo so proprio dire perché l'anno è ancora a lungo e si tratterebbe di occhio però perché cz secondo me con sfp potrebbe creare qualcosa similuni questo è interessante potrebbe essere interessante se fosse scusa non volevo non volevo interrompermi ma questo commento ha catturato la mia attenzione dicevo non so il prezzo a fine anno perché è una previsione da qui a 10 mesi e sarebbe veramente azzardata però ti posso dire che secondo me un altro 12 marzo non ci sarà mi spiace dirlo ma un'occasione del genere un dump del meno 50% in un giorno non so se lo vedremo mai più ti dico la verità non lo vedremo mi sa ciao Luca ma secondo te le piattaforme di landing tipo celsius nexo eccetera reggono ad eventuali esplosioni di bolla del tipo 2017 io penso di sì anche perché loro hanno il loro business consolidato e io penso che non verranno particolarmente influenzate da quello ecco se tu ci pensi ha retto addirittura maker dao che è completamente on chain e ha tutte le cose automatizzate da smart contract insomma io credo proprio di sì ciao Luke e ciao a tutti ma ciao anche a te ho due domande uno cosa ne pensi no mi è saltato eccolo cosa ne pensi dei prodotti sintetici in particolare synthetics e magari diamo un'occhiata al grafico di snx due che impatto pensi possa avere sul mondo cripto alla diffusione quando ci sarà dei computer quantistici grazie della dedizione da novembre che ti seguo ho imparato un sacco allora grazie innanzitutto dei complimenti che fanno sempre piacere e mi fa piacere sapere che i miei contenuti aiutano voi poi le tue domande io dei prodotti sintetici e di synthetics penso solo cose positive nel senso che io penso che il creare prodotti sintetici tokenizzati sia una cosa molto importante non solo per chi vuole speculare sul prezzo degli stessi ok che è la cosa l'applicazione più semplice ma tu pensa a questo col diffondersi della DeFi delle piattaforme di DeFi tu questi prodotti sintetici tokenizzati li puoi usare come collaterali per chiedere liquidità per per fare qualsiasi cosa che faresti con altre cripto e di fatto questo è la loro killer application io penso quindi mi raccomando porte aperte alla grande io spero che si moltiplichi il mercato dei prodotti sintetici synthetics è una delle piattaforme da un lato più complicate perché è dannatamente complicata ma dall'altro più rivoluzionarie e utili del mondo della DeFi e credo che abbia veramente tanto spazio per crescere mi sa che mi tocca fare il tutorial perché vi vedo sempre più interessati poi computer quantistici invece io credo che il mondo cripto si abituerà si adeguerà a tempo debito quindi non lo metteranno non lo minacceranno avevo fatto un video tempo fa se ti va di buttarci un occhio allora SNX lo andiamo a vedere immediatamente SNX anche lui era partito senza dov'è questo era sul daily questo cluster ah sì era un cluster di prezzo sul daily che poi non ha neanche ritestato e adesso sta andando su e giù in maniera isterica un po' anche lui di fatto è un grafico un po' strambo perché guardate che che andamento ha è particolare abbiamo un andamento a blocchi anche in questo caso si può dire una roba del genere con un po' di anomalie quindi di fatto faccio fatica io sai a impostare dei trade su un grafico di questo tipo faccio veramente fatica perché ci sono delle shadow tanto tanto lunghe allora possiamo andare a segnare dei livelli magari utili come questo e questo 47.8 e 62.7 qua su e poi abbiamo vabbè l'area qua in fondo quindi in sostanza c'è la possibilità di operare in questa zona come se fosse una sorta di range low oppure sul breakout retest che tanto amate lo so che mi amate per questo ma dunque con questo pool di liquidità come riferimento di fatto io vedo queste due possibilità non so voi ma a me non dispiacciono appunto queste due possibilità faccio il pool di domanda qua sotto così abbiamo tutto quindi long 1 cioè la struttura è rialzista quindi long ma su questo non credo ci fossero dubbi long 1 qua con possibilità appunto di rialzo eventuale primo take profit long 2 in caso di rottura presa della liquidità qua sopra e poi retest qui si longa e stop loss in caso di riassorbimento dello stesso si potrebbe anche sviluppare una situazione di lateralità una cosa del genere no? e se così fosse sarebbe forse ancora più facile da fare perché basterebbe vedere il prossimo cioè che questo diventa un lower high e quindi andiamo di nuovo a fletter a ribasso e allora andiamo ad accumulare magari sulla prossima flessione sulla prossima ricerca dell'higher low sotto ipotesi appunto di lateralità in accumulazione perché la struttura è molto rialzista lo vedo bene però Synthetix allora amici andiamo a dare un'occhiatina al grafico di BTC così abbiamo visto che abbiamo cubato già 50 minuti e poi ritorno da voi perché di fatto le posizioni le ho praticamente tutte chiuse le posizioni in alto sì lo so sono una persona strana no avevo aperta la posizione in Chainlink e in Ether e le ho chiuse di fatto e tra l'altro Chainlink oggi è ripartito un po' tra l'altro proprio toccando di nuovo l'entry area però io ho preferito aspettare e se volete poi ne parliamo ma ve le avevo già detto poi le volte scorse come gestivo le posizioni quindi non c'è niente da aggiungere perché di fatto non le ho più aperte allora la situazione è la seguente ci troviamo in una fase di nuovo di price discovery perché abbiamo rotto ancora i massimi il vecchio massimo era sui 41.000 qualcosa lo abbiamo rotto nel mask day il famoso mask day quando Tesla ha deciso di acquistare BTC e dargli una forza pazzesca sia dal punto di vista grafico che fondamentale perché di fatto è una notizia che conta quella poi cos'è successo niente candelona gigante verde piena che non dà veramente spazio all'offerta e poi adesso stiamo un attimino abbiamo preso un attimino di pausa cosa succede nel frattempo qui possiamo tornare sul 4 ore come avevamo fatto l'ultima volta vi ricordate e avevamo visto la possibilità di adoperare questo cluster di prezzo come eventuale entry di fatto guardate cosa è successo è stato sfiorato e poi via è ripartito è ripartito subito verso una zona che al momento ha creato un pool di offerta è questo livello qui adesso aspettate vediamo sul giornaliero dove è il top qui e vediamo sulle 4 ore perfetto esatto ottimo meglio ancora che è lì perché di fatto questa zona con tanto di pool di offerta sopra è adesso il principale ostacolo ok allora aspettate che voglio farlo rosso per bene ok benissimo quindi che dire operatività in questo senso se si va a formare un range c'è l'operatività di nuovo su questo cluster nel caso in cui ritorniamo a bazzicare da queste parti ok quindi cluster ingresso long stop loss eventualmente qua giù in caso di riassorbimento del breakout stesso altrimenti che altra operatività abbiamo beh se andiamo a bucare c'è il solito retest che però se continua così lo si missa ancora e che dire non è facile se no c'è l'operatività su breakout per i breakout trader che non sono io però è possibile fare anche quello lo sapete bene che c'è la possibilità io non la cito quasi mai perché non mi viene neanche da parlarne essendo poco abbezzo a fare trade di questo tipo e e basta in verità questo è a tutti gli effetti al momento un range tutto quello che sembra di fatto un range con range low questo cluster range high 48.100 non spaventatevi ho sbagliato solo di un ordine di grandezza basta questo è quanto se andiamo a violare a ribasso questo cluster di prezzo andiamo a violare il range e ci andiamo a indirizzare al contrario nella zona 39.100 40.500 questa area qua se andiamo a violare il range e facciamo anche cedere la struttura perché se andiamo a violare questo range adesso che abbiamo fatto anche un ritest sul giornaliero ma non lo so andiamo incontro a un po' di giorni di ritracciamento di fatto però magari non sarebbe neanche male poter rientrare da queste parti tutto da vedere tutto da vedere adesso non ha senso fare delle ipotesi così di ampio respiro perché dobbiamo vedere innanzitutto se questo si riconferma range high poi andiamo a vedere l'approccio con range low volendo possiamo buttarci dentro un range middle in questa zona qua la candelina verde che ha paralizzato qua il l'up trend guardate questa di fatto è una piccola candela d'arresto anche se non è rossa volumi no scusate questa volumi altissimi e movimento nullo quindi è di fatto una candelina d'arresto la possiamo utilizzare anche lei come indicatore come range middle come livello di prezzo interessante e quindi si può aggiungere questo è scalping però utilizzarlo si parla veramente di 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 un time frame di 15 minuti 30 minuti usare questo livello qui però sono tutti livelli che sono estrapolabili dal grafico attuale questo è quanto poi cosa possiamo andare a vedere ma ethereum diamoci un occhio visto che comunque è sempre ethereum allora bene ecco oggi è bello oggi sta dando un bel segno perché di fatto se vi ricordate noi avevamo detto una cosa avevamo detto che la zona che va da 0.0365 fino a 0.0417 è tutto un gigantesco entry nel momento in cui cioè l'ipotesi che stava dietro a ciò era che avevamo rotto a rialzo questo livello di prezzo qua che era il livello di resistenza più forte abbiamo preso addirittura la liquidità sopra il top e quindi una volta fatto questo noi in sostanza abbiamo il costrutto di bottom teoricamente pertanto andare a prendere il retest è un'opportunità il retest su tutta quest'area no che è quell'area di liquidità che si racchiude tra appunto le chiusure più frequenti delle candele questo è un time frame settimanale tra l'altro e il top delle shadow quindi andare a spezzettare un entry qua dentro può essere un setup long ma di fatto lo rimane io perché sono uscito dalla posizione contrariamente a quanto sto dicendo beh in primo luogo perché l'avevo aperta molto in basso e quindi volevo di fatto andare a realizzare il profitto era più che soddisfacente e in seconda battuta perché sul time frame giornaliero avevo visto questo costrutto qui ok che di fatto per me è un setup short ok vedete doppio massimo crescente neckline qua sotto rotta ribasso e anche un retest volendo quindi ripeto questo è un setup short sul giornaliero che si inserisce in un macro estremamente bullish perché il settimanale come abbiamo visto non mostra segni di inversione però ecco se mettiamo insieme il discorso che ho aperto la posizione in basso avevo un bel profitto non realizzato che mi spiaceva andare a bruciare e soprattutto eventualmente se poi va a recuperare a rialzo non è che lo lascio lì io sono sempre in tempo a riaprire la posizione allora abbiamo il motivo per cui io ho deciso di chiuderla vedete questo è uno di quei casi in cui in base all'approccio è valido un approccio e il suo contrario cioè il setup long e la chiusura del long stesso dipende tutto da come si vuole gestire il trade come vedete non esiste una verità e adesso vi ho mostrato due casi veramente secondo me esemplari in ciò benissimo io ho terminato le mie analisi adesso leggo un paio di vostre domande e vediamo un po' che cosa vi incuriosisce Apple Pay annuncia il supporto per Bitcoin e i pagamenti cripto attraverso BitPay figata questa l'avevo letta l'avevo letta anch'io una notizia del genere non mi ricordo no si l'avevo letta poco fa non so perché non ve l'ho detta come mai hai chiuso visto la dominance ma guarda te l'ho detto perché ho visto un primo costrutto di top potenziale e ho preferito fare così di fatto questo potrebbe essere un ritracciamento potrebbe non esserlo mi spiaceva lasciare sul piatto un profitto non realizzato così alto di fatto hai ragione la dominance è clamorosamente in downtrend quindi l'alt season è in carica più che mai come vedete nonostante qua c'è stato un piccolo rallentamento perché di fatto siamo passati dal continuo ribasso lineare a un po' di vedete lateralità però ripeto non inficia minimamente la alt season il motivo per cui ho chiuso è soltanto quello il voler realizzare il profitto basta tutto lì e il costrutto di top potenziale su ether però questo non vuol dire che io sono al di fuori della delle esposizioni in alto ne cerco altre in questo momento qual è la messa a rendita migliore per btc ed ether in holding dipende da tante cose dipende da quanti perché se sono tanti c'è BadgerDAO che dà la possibilità di ottenere una rendita galattica su btc però è DeFi quindi ci sono tutti i rischi del caso altrimenti ci sono le banali tra virgolette Cefai con loro 6% 5-6% annuo medio poi cosa c'è su btc fammi pensare c'è ah il pool fammi vedere il liquid swap c'è su Binance fammici dare un'occhiata c'è il liquid swap btc vbtc lo andiamo a vedere un attimo al volo abbiate pazienza Binance Earn liquid swap liquid swap visualizza altro vedere quale dunque 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 dovrebbe essere eccolo qua beh no 5,7% nulla di particolare mi aspettavo di più niente è a livello delle cefai quindi non ha non ha senso utilizzarlo ho detto in maniera molto sincera e che altro c'è a voi viene in mente qualcos'altro per mettere a rendita i btc a me personalmente no per ether anche lì ci sono le defai le defai su bsc in particolare sono abbastanza interessanti oppure le cefai ma le cefai su ether non danno granché poi cosa abbiamo cosa abbiamo ciao luca cosa ne pensi del token 2G ah il coso di together che verrà listato il 23 febbraio dici che potrebbe essere un buon investimento guarda io in tutta sincerità non ho mai avuto particolare fiducia né simpatia verso together è una mia opinione ripeto non voglio scatenare flame né niente io dico quello che penso semplicemente btc su pancake swap e che cos'è che è btc c'è btcb giusto è quello tokenizzato su bsc ciao luca sto per iniziare con le cripto e vorrei sfruttare il tuo referral di binance grazie come funziona il 20% di sconto sulle commissioni ci sono condizioni particolari da rispettare allora funziona in questo modo semplicemente tu ti iscrivi a binance tramite il mio referral link e basta ti compare nel momento in cui ti iscrivi la dicitura proprio sotto che tu riceverai il 20% di kickback attenzione è un kickback per l'appunto quindi non è un vero e proprio sconto funziona così funziona che tu vai a fare il trade sullo spot paghi le fee però al momento stesso te ne ridanno indietro il 20% e tu puoi vedere quelle che ti danno indietro nel momento in cui tu vai nel profilo nella sezione referral c'è un'area che si chiama commissioni condivise con te e qui e lì vedi poi tutto l'elenco delle commissioni che recuperi ripeto non è uno sconto può essere ingannevole ti può sembrare che non lo hai però di fatto tu ogni volta che paghi fee ricevi indietro nella stessa coin in cui le hai pagate il 20% amici io con questo vi saluto perché abbiamo superato l'ora di tempo tanto noi ci rivediamo lunedì più carichi che mai e chissà cosa ci ha combinato nel frattempo bitcoin e basta io vi ringrazio per avermi seguito ringrazio chi si è abbonato al canale ho visto che qualcuno l'ha fatto anche oggi vi ricordo che con amazon prime tramite twitch prime amazon gaming potete abbonarvi gratuitamente al mio canale e darmi quindi un piccolo contributo per voi a costo zero ma dovete rinnovarlo ogni mese quindi ricordatevi di farlo basta io detto questo vi saluto vi hanno detto tutto quello che ci dovevamo dire ci vediamo lunedì vi auguro un buon weekend e mi raccomando sempre gasati ai massimi ciao a tutti